Buongiorno a tutti Andriesi, sapete quali sono le priorità di questi capaci amministratori? Voi direte la risoluzione del problema dei topi e delle blatte o degli scarafaggi per capirci? No, assolutamente. Oppure magari la risoluzione del problema del centro storico che è lasciato in mano al caos? Oppure quello relativo ai Deors che andrebbero regolamentati? No, cari Andriesi, la priorità del neoassessore appena insediato è stata quella di ridisegnare le linee che delimitano gli spazi per le bancarelle del mercato settimanale, ma sapete qual è il paradosso? Che le hanno disegnate più strette e quindi adesso gli ambulanti avranno notevole difficoltà a montare gli ombrelloni con le relative bancarelle. Ora, gli ombrelloni degli ambulanti hanno delle misure standard che sono all'incirca di 3,20 per 4,5 che devono essere montati in spazi che devono avere una dimensione media di 6,5 per 4,5. Sapete qual è un'altra assurdità? Quella di non aver consultato le persone più titolate a dare dei consigli, vale a dire le associazioni delle ambulanti. Avrebbero sicuramente consigliato meglio, avrebbero evitato di fare delle strisce blu che richiamano tantissimo il parcheggio a pagamento e che generano confusione. Quindi, Andriesi, se loro sono quelli competenti, è meglio che tolgano le tende quanto prima, ma non quelle degli ambulanti. Arrivederci.